Allora amici, ce l'abbiamo fatta. Il posto di prima dove ho caricato sono entrato alle 15 del pomeriggio e siamo usciti alle 16. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un altro carico nel frattempo. Adesso non so se si vede, ho montato le zanzariere artigianali anche sopra nella botola e stasera si dorme al fresco. Ho un carico domani mattina qua vicino a 5 km a Ormelle, siamo ormai in provincia di Treviso e faccio un po' di compiti. A notare tutto quello che si fa durante la giornata, avanti a evitare situazioni strane. Basta. Finiti i compiti, fra un po' scendo giù, faccio due passi a piedi e vado a mangiare. C'è il ristorante qua vicino, fa da bar, domani mattina facciamo la colazione e poi si va, alle 8 si carica, si torna indietro e si completa a Milano. E quindi basta, abbiamo finito per oggi, sono stanco morto. Troppi imprevisti oggi, troppi. E per oggi stop. Quindi vi saluto, buona serata. Buona serata per me, per quando vedrete il video sarà buona domenica. E ci vediamo alle prossime. Il viaggio prosegue. Occhio a vivo sempre, buona strada, ciao, bye.